Dovrebbe arrivare la neve anche a Caltanissetta tra giovedì pomeriggio e il giorno dell'Epifania. Lo comunica la protezione civile con una nota diramata a tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti in previsione delle fortenevicate il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo ha predisposto il servizio di spargimento sale. Si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti se non per necessità e in ogni caso di munirsi di catene. Anche a San Cataldo sono stati predisposti appositi servizi per evitare al minimo i disagi ai cittadini. Saranno assicurate le emergenze di viabilità nei tratti dove la circolazione è più intensa e di soccorso sociale per chi avesse necessità evitare i da espletare. Al comando di polizia municipale, sempre a San Cataldo, sarà attivata una centrale operativa. Il numero di emergenza è lo 0934 51 12 38. Dalle 14 del 5 gennaio sarà attivata anche una sala operativa della Croce Rossa fino a cessate esigenze. I servizi di ambulanza e di unità di strada saranno potenziati. Grazie. Grazie.